L'Onorevole Caverna di Platone ha reagito alla mia recensione su Dragon Ball Super Hero Vediamo un po' cosa ha detto, dai Io ogni volta ci spero, ogni volta... Ma porco Dio, Miss Gohan che fa il macan cosa poco la trasformazione Cioè non è che spoiler quello che dice, è spoiler già dal primo frame, cazzo Su questo, insomma, potevo stare sicuramente più attento Infatti mi scuso perché comunque il film non era ancora uscito in Italia, effettivamente Però c'è da dire che comunque la trasformazione si era vista dappertutto Cioè io veramente sfido un po' chiunque, cioè chi è fan di Dragon Ball O comunque in generale chi voleva vedere il film a non averla già beccata da qualche parte Chiaramente questa non è una giustifica, anche la tua stessa dopo forse un mese Che è stato al cinema in Giappone, già c'erano gli spot con Gohan trasformato Purtroppo i film giapponesi in Italia arrivano veramente troppo tardi Però dai, potevo stare più attento su questo, c'è ragione Ma come si fa a fare un video così? È veramente un emerito Ma questa persona è un emerito È un grande emerito È un emerito È certo Ragazzi, vabbè, spoilerato Io ancora non avevo visto il film stasera È stato pure bannato da Twitch Questa persona? Vabbè, per forza, eh, fa così Ma che cosa c'entra, scusa? Mamma mia Auguro ma ogni volta vengo deluso Veramente non è possibile, non è possibile Cioè questo è il terzo film di fila Che ricicla roba è già vista Siamo passati per La resurrezione di Frieza Un film di me Dragon Ball Super Brawl Un altro E con Adesso c'è lui, eh E Cell Wow No, sto dicendo Come la penso io Ma non capisco perché È partito così Così aggressivo Complimenti Complimenti Ma, ma Siri Allora, la prossima volta cosa facciamo? Cosa facciamo? Vai, richiamiamo Majin Buki The Bull Ma io infatti voglio questo Io il prossimo film voglio Gotenks contro Majin Bu Lo voglio vedere Io non capisco cosa ci sia di interessante Nel rivedere sempre le stesse cose Cioè perché Io lo Cioè l'abbiamo visto Gotenks contro Majin Bu Perché dobbiamo rivederlo un'altra volta? Io non capisco perché Non bisognerebbe puntare a qualcosa di nuovo Però porca puttana Non era neanche questo Dragon Ball una volta Cioè roba riciclata in continuazione Ma solo io mi ricordo che I cyborg del Dottor Ghero Sono cyborg del Fiocco Rosso? Una delle primissime saghe di Dragon Ball Che Toriyama ha recuperato? Così per dire Ma Ma appunto per questo Cioè ma visto che certe robe le ha pure già riciclate Ma perché rifarle ancora? Cioè ragazzi ma sono passati pure 30 anni E dire pure basta no? Ma non dico che si devono inventare una trama complessa Particolarmente raffinata Perché Dragon Ball non è che è mai stato particolarmente raffinato Però almeno che mi fai un villain diverso Che magari arriva per un motivo diverso Che so Dragon Ball Z la battaglia degli dei Bills è comunque una cosa diversa Per dire no? Per fare un esempio Invece hanno fatto tre film di fila di roba già viste Freezer, Cell e Broly E Freezer e Broly e Cell Basta Ma basta Li abbiamo visti Starevisti 150 volte No non è vero A rigor di logica Tu Freezer l'hai visto una volta sola nel manga originale Poi viene resuscitato Punto Basta No 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 aspetta aspetta un attimo Aspetta un attimo Questo film Arriva Dopo Dragon Ball Super Diciamo almeno per chi ha visto l'anime Fino al Torino del Potere Io Freezer l'ho visto Quando torna con Trunks del Futuro Che lo fa fuori in due secondi Poi torna Nella risurrezione di Freezer Poi è tornato anche per il Torino del Potere Sono tre volte Cavè Sono tre volte Questo film arriva dopo Dopo Questo film che cosa fa? Va a riprendere il fiocco rosso Perché un'altra volta sto ciazzo di fiocco rosso di Red Ribbon Non ho capito Cosa succede comunque? Gli piace? Perché gli piace? Perché Perché voi ancora non avete capito cosa vuole raccontare Toriyama Non lo sapete Toriyama vuole raccontare storie di militari Perché questo vuole fare Questo è l'obiettivo della sua vita Però purtroppo per un motivo o per un altro non c'è mai riuscito Perché la fascinazione per i mezzi militari Per i mezzi a motore Per gli aeroplani, i carri armati I veicoli Perché utilizzano i personaggi di Dragon Ball Spesso recuperati da modelli realmente esistiti Di Harley Davidson Di motociclette Di Panzer Della guerra Significherà qualcosa A lui gli piace raccontare le storie di gente vecchia Disillusa Dal mondo del passato Che vuole cercare di cambiare qualcosa Quello è l'obiettivo di Toriyama Gente del passato disillusa dal mondo Che però ha ancora qualcosa da dare Perché sempre ho fatto giapponese Che i vecchi sono meglio dei giovani Sempre base Questo non si può mai sbagliare Quell'unica volta che ha cercato di fare una cosa Un po' più oltre gliel'hanno segata Quindi vuole fare i vecchi Che quello gli piace disegnare I vecchi, i mostri e a guerra Perché è giapponese Ma questo va benissimo Va benissimo Ci sta che Toriyama gli piace fare una determinata cosa Ma non sempre allo stesso modo Per me Toriyama può anche fare dieci film Sui cyborg Ok? Ma non tutti Con le stesse cose già viste Red Ribbon Creazione dei cyborg Cell Cioè è quello visto nella saga di Cell Quello che gli piace Come a tutti i giapponesi di quella generazione Sempre Non c'è niente da fare E le cose più belle che fanno Sono proprio queste Vi dovete dire perché l'attacco dei giganti è bello Perché ci stanno i mostri Perché ci stanno i giganti Che sono degli zombie più grandi Perché ci stanno le spade L'attacco dei giganti è bello Perché parla di guerra Di politica È bello Sì ma l'attacco dei giganti Ma io non lo capisco L'attacco dei giganti Si parla di guerra Di politica Ma la storia va avanti Cioè succedono cose diverse Ci sono delle evoluzioni Non vanno a ripetere le stesse dinamiche In continuazione Qui no Qui è stato un ripetere Una cosa proprio già vista Ma già vista nel senso che Si ripetono proprio le stesse scene Capito qual è il punto La cosa che a me ha dato fastidio Naruto diventano dei soldati A tutti gli effetti Fanno la quarta grande guerra ninja Fanno una guerra Loro diventano soldati Ma io continuo a non capire questa cosa della guerra Cioè E quindi Ma questo non giustifica il fatto di ripetere certe cose Di rifarmi vedere allo stesso modo certe scene Cioè Naruto L'attacco dei giganti In tutto questo non c'entrano niente Perché si Hanno la guerra Nella loro storia Ma non è un qualcosa che si ripete loop Cioè Non si ripete La stessa situazione La stessa dinamica Ci sono altre situazioni Diverse Non sono un copia e incolla Preso da un qualcosa che è stato fatto prima Questa È stata la mia critica Non il fatto Che Toriyama va a riprendere i cyborg Per l'esima volta Mi dà fastidio Che l'abbia fatto In maniera diciamo Svogliata Andando a riprendere le stesse dinamiche In certi momenti Della saga di serie Succede la stessa roba Cioè che vengono creati due androidi gemelli Come C18 e C17 Però questa volta Molto più brutti esteticamente Perché sono due Non lo so cosa sono Quei due cosi grigi Gamma 1 e gamma 2 Che Non è vero nulla di tutto questo Non succede la stessa identica cosa Sono diversi I due nuovi cyborg In realtà sono molto piacevoli Da vedere Molto ricordi Questo è Va a gusto personale Non mi puoi criticare Quello che piace a me 1 2 Non è che è uguale la storia Ma la dinamica è molto simile Cioè il red ribbon Il fiocco rosso Cioè qualcuno del fiocco rosso Che va a ricreare Due cyborg Cioè addirittura copiere il fatto Di fare due cyborg gemelli Manco diversi Sempre gemelli uguali Per poi fare Cell Che sì Non è che qui assorbe le persone Assorbe i due cyborg Ma anche perché Non c'era tempo Di fare tutto questo In un film Però la dinamica è quella Ci sono due cyborg Che sono forti Ma c'è il cyborg Ancora più forte Che è Cell Con cui poi si va a scontrare Gohan Che poi sconfiggia Quello è Non si può dire di no È la stessa dinamica Tra l'altro combattono Con le pistole E in questo film I protagonisti sono Sono dei supereroi Retro Ci hanno le pistole Si combattono Con le pistole Ma a me il fatto Di combattere con le pistole Mi fa un po' ridere Perché siamo arrivati A un livello A un punto in cui Cioè I personaggi Sono talmente forti Che combattere con le pistole Cioè lasciamelo dire È un pochettino ridicolo Io l'ho trovato un po' una cazzata Cioè Chi era gamma 1 Gamma 2 Che a un certo punto Tipo spara junior Cazzo fai con la pistola Non mi sta bene Però di vedere sempre Le stesse cazzate Cioè Ogni volta Si cerca di fare Incazzare Gohan Perché Gohan Ha un potenziale Nascosto Può essere Molto più forte Di così Blah 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 Mamma mia Ragazzi Sempre le stesse Stronzate E qui che cosa vediamo Vediamo che Junior E Gohan Combattono Cioè È questo che si dice Da sempre Di Gohan Di questo personaggio Ma che devono fa Scusami eh Cioè È l'unica cosa Che Devono andare avanti Bisogna Ma 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 è così Devono andare avanti Ma Ma porca miseria Ma è da Dragon Ball Della saga di Majin Buu Che Vegeta Li dice Ti devi Allenare Cioè Sei diventato Debole Sei diventato Scasso Perché dopo La saga di Se non si è più Allenato E ok Poi Nella saga Di La risoluzione Di Freezer Viene fatto fuori Dopo due secondi Perché è debole Poi si deve Allenare Per il tono del potere Perché Deve rimettersi in forma Ma forse Caverna si dimentica Che prima di questo film C'è stato anche Dragon Ball Super Sono cose Che stanno Ripetendo il loop Non me lo sto inventando Cioè Sembra che mi sto inventando Le cose Effettivamente Siamo arrivati A questo film Dragon Ball Super Che sembra che stiamo fermi Sempre Sulle stesse cose E non c'è Un'evoluzione Non c'è un qualcosa Che va avanti Siamo sempre lì Questa storia di Gohan Che non si allena Che potrebbe essere più forte L'abbiamo già sentita E La stiamo sentendo Anche in questi anni Perché ripeto Dragon Ball Super Almeno l'anime È arrivato Fino a tutto nel potere Che è quello che ho visto Non so dopo Se ci sarà ancora Sto Gohan A cui dicono Ti devi allenare Che sei debole So cose C'è sentite Non è che non sto inventando Si sa che Gohan È quello che ha Il potenziale Inespresso Grande Sì Quindi alla fine Conto questi due cyborg Cioè non è Shakespeare Ragazzi Cioè è Dragon Ball Ma che devono fare Cioè le loro storie Sono No ma comunque Cioè quello che ho detto Nel video Non è stato minimamente Compreso Secondo me Sembra quasi Che Io abbia criticato L'essenza di Dragon Ball Io non ho Criticato questo Non ho criticato Quelle che sono sempre State le caratteristiche Di Dragon Ball Io sto criticando Il fatto Che ci sono delle situazioni Dinamiche Che stanno ripetendo In continuazione Perché Super Ripeto Ce l'ha già fatta vedere Queste cose qui Ci hanno fatto vedere Che contro Bills Non ha avuto speranze Contro Frise Non ha avuto speranze Nel torre del potere Sembra che si stava riprendendo Ma torniamo Poi in Dragon Ball Super Hero Con Junior Che gli dice Che si deve allenare Quando Piccolo Mette i vestiti pesanti A Gohan Gohan fa fatica Addirittura A stare con i vestiti E è un tornare indietro E andare avanti Un tornare indietro E in continuazione Mi sarò rotto A un certo punto Le palle Di vedere sempre queste cose Vediamo poi La nuova trasformazione Di Junior Che lo fa diventare Più grosso Arancione Il bello è che Non serve un cazzo Sto potenziamento Perché comunque È un debole di merda Junior Cioè alla fine Comunque Le prende Un po' da tutti Quindi potenziamento Che non serve A un cazzo Insomma No E devo spoilerare Vabbè ma tanto ormai Stiamo già parlando Di robe spoiler C'ha due power up Quello che lo fa diventa Giallognolo E lì non arriva Ai livelli di Goku e Vegeta E poi Orange E lo porta Ai livelli di Goku e Vegeta Con l'Orange Anzi è proprio L'Orange Che riesce A sconfiggere Gamma 2 Con un cazzotto Tanto per D Non è che mi fa vedere Un cazzotto Che da gamma 1 E allora Grande trasformazione Dopo due minuti Che combattere con Cell Gena la merda Almeno Non avrebbero potuto Mostrare Che un pochettino Riusciva a tenergli testa Ma ha fatto una fatica enorme Stava crepando Poveraccio Non dico che doveva Sconfiggere lui Cell E' chiaro che L'attenzione Era su Gohan Però è durato Talmente poco Che Non mi è sembrato Che poi avesse Tutta questa gran potenza Poi stati cambiando Ti devo guardare Che cazzo Sembra The Rock Arancione Sembra Comunque questo il film L'ha visto malissimo Non ha capito niente Non ha capito Nemmeno che I nuovi cyborg E il dottor Edo Erano Plagiati In qualche modo Dal Red Rib No e invece forse Non avete capito Voi Il mio punto di vista E questo è il problema Fare dei personaggi Che poi Hanno la possibilità Di diventare Amici E dalla parte Di Coco e compagnia Il problema è alla base Non Il film si Ha senso Che poi diventano amici Perché loro di base Non erano cattivi Il problema E aver proprio messo Questi personaggi Che hanno poi la possibilità Di fare questo passaggio E questo è il problema Questa è la critica Non è che il film Lo guarda da cazzo di cazzo Si incazza Perché vede il suo amico Che sta morendo Capelli bianchi Occhi lossi Vai Senza se Ormai questo è Dragomo Cambiamo il collo dei capelli In continuo Tra l'altro capelli grossi Grossi Più grossi Della testa Orribile La sfumazione Anche abbastanza bruttina Piccolo Ferma Cell Max E Gohan Lo colpisce Con un macanco sapo Cosa che hanno fatto Anche con appunto Radish Dove Goku Teneva fermo Radish E Junior Ma che cosa Scusa Almeno fanno Radish e Gohan Qui però Cioè gli fa così tanto schifo Che l'ha messo pure Nello sfondo Della recensione Ma proprio cacare Questa Vabbè Questa è proprio Una critica No sense Cioè io dovevo Mettere qualcosa Come sfondo Ho trovato Quest'immagine Ho messo questo Ma poi A me il film Fa schifo tutto Quindi anche Un'altra immagine Non avrebbe cambiato Assolutamente niente Adesso addirittura Critichiamo il fatto Che avevo messo Questo sfondo Vabbè È un film Completamente In CGI E sinceramente Meglio farlo tutto In CGI Che in 2D E poi con due parti In 3D Cioè non so se avete visto Tipo La resurrezione di Freezer Dragon Ball Super Blue Dove univano 2D e 3D Ed era una roba Che ti faceva Vovitare Perché si notava Tantissimo Lo stacco Allora in questo film Ci sono tutti i momenti Del passato Fatti in 2D Cioè Qua hanno fatto esattamente Il contrario Della cosa di cui Si lamenta lui Però vabbè Per qualche motivo Che non mi spiego Qua forse ho capito Non ho capito Un cazzo Perché cosa vuol dire Che hanno fatto Il flashback In inizio in 2D Se il film È tutto in 3D Forse nella mia recensione Non mi sono spiegato Allora Io preferisco Il 2D Sempre Per Dragon Ball 2D Ma per gli anime In generale Il 2D Perché col 3D I giapponesi Non sono capaci Qui però ho detto Visto che Finora Hanno fatto film in 2D Ma con in mezzo Il 3D E quando Mixano le due cose Fa schifo E si nota Allora Qui ho detto A sto punto Meglio seguire Un unico stile Quindi tutto in 3D Così almeno Non ci sono sbalzi Di 2D e 3D Meglio scegliere O uno O l'altro Anche se il 3D Ripeto I giapponesi Non lo sanno fare Però almeno Non c'è Questo continuo cambio Tra appunto I due stili Che fa veramente Vomitare Questo ho detto Non ho capito Sta cosa che ha detto lui Però Evidentemente ho torto Perché gli incassi Vanno sempre alla grande Sto film Sembra che sta vendendo tantissimo Però io non sono affatto Prima in classifica Da 5 giorni D'accordo e Vabbè A parte il fatto Che Dragon Ball Cioè pure Spider-Man New Way Home Che tecnicamente È una merda Ha venduto tantissimo Perché Cioè Ci sono quei prodotti A cui ormai Tutti sono legati Che sto film Poteva fare Anche più schifo Probabilmente Non sarebbe Capito E Dragon Ball Ed è pure Grazie al cazzo Benissimo Ci ha mai visto Pure sta cacata Cioè si lamenta Delle cose che riciclano Ma lamenta di Che cazzo ne so Del fatto che Venga recuperato molto Lo spirito Di un film Dell'MCU Cioè quando Ho visto Questo Dragon Ball Era come Cioè se Avessero toto La scritta Dragon Ball Poteva essere tranquillamente Un episodio No Io a parte che Mi lamento Di quello che Dico io Perché se su una cosa Mi devo lamentare So io su cosa Mi devo lamentare Pretende lui Su cosa si devono lamentare Gli altri Una chiedere Che non ho mai visto In vita mia Ripeto La mia critica È sul fatto Che guardando Questo film Mi sembrava Di vedere qualcosa Di già visto A me questo È stato fastidio Poi la citazione La citazione Il fatto che vogliono Magari riprendere Il film dell'MCU Honestamente Non capisco Cosa avrei dovuto notare Questa cosa In stile MCU E anche se c'è Boh evidentemente Non mi è stato fastidio Sinceramente Quindi Ma poi Io mi lamento Di quello che Penso Ci sia da lamentarsi Ma è Parissimamente Un film Che si prende In giro da solo È un film Che racconta Delle cose Importantissime Per i fan Di Dragon Ball In una maniera Totalmente Anticlimatica E tu lo guardi E dici Ok è figo Ma l'ho fatto Malissimo Ma perché È fatto apposta Malissimo Che vuole essere Un Diciamo Una parodia Un po' Un prendersi in giro Ha ragione Dario Dragon Ball Super Racconta le storie De cose Il primo Dragon Ball Le racconto Molto peggio Con un disegno Veramente orrendo E Dario Dice Cazzate In certi momenti Ci sta Bisognerebbe essere obiettivi E capire che Dragon Ball Super Ha anche Allargato di molto La lore di Dragon Ball Più di quanto Non abbia mai fatto Dragon Ball GT Più di quanto Inserendo dei Ragionamenti nuovi Sulla Sulla religione Sulla Possibilità Di viaggiare Nel multiverso Sulla Possibilità Di avere Delle forme Nuove Dei Dei momenti Interpersonali Nuove Tra i vari personaggi Eccetera Eccetera Insomma Super Molto valido Dire che è una Merda e basta Semplicemente perché Ricicla un paio di cose Ma come anche Tanti altri brand Boh Non lo so Mi sembra Mi sembra una sciocchezza Ragazzi E comunque Io Concordo Pianamente con Dario Moccia Che ha sempre Smerdato Dragon Ball Super E c'ha Assolutamente ragione Perché le storie Che ci hanno proposto Io almeno Sono arrivato Alla saga Del Torno del Potere Non mi prendo La briga Di leggermi Di continuarmi Il manga Perché non ho Tutta questa voglia Magari un giorno Quando arriverà l'anime Lo guarderò Ma No Non sono proprio D'accordo Dragon Ball Super Non offre assolutamente Niente di interessante È un'opera Avrete svogliata Dragon Ball Super Non serve a niente Per me Le trasformazioni Sono una merda Una più dell'altra Salva un po' L'ultraistinto Incompleto Che secondo me è carino Ma robe dove Vegeta si rende conto Di essere cambiato Robbe dove Vegeta si sacrifica Per la sua famiglia Per quelli che ama Ma dove cazzo Le abbiamo riviste più Ste robe Non ci sono Non ci sono Vabbè qui comunque Caverna ora parla In generale del film Ma poi soprattutto Ho visto una Cattiveria E anche poca Raffinatezza Da parte sua Che è anche Magari Più grosso di me Come youtuber Come influencer Cioè anche L'inizio Dire è un grandissimo Pezzo di Cioè anche Se non ha Completato la frase Ma Non capisco Quale sia La necessità Di rivolgersi In questo modo Da uno che neanche conosci Cioè io Ho commentato Adesso quello Che ti ho detto Tutti di me Ripeto Ho ribadito Ciò su cui Non sono d'accordo Ma finisce là Vabbè Lo accetto comunque Si sa che Quando sei su web Queste cose Possono capitare Le critiche Possono arrivare Però C'è anche Un modo secondo me Di rivolgersi A qualcun altro Soprattutto Che non conosci Detto questo Rispetto assoluto Per lui Ho sempre visto Spesso i suoi video In generale L'ho sempre seguito Però Non so Mi è sembrato un po' Una caduta di stile Il modo in cui Mi ha commentato La recensione Poi Una cosa che dico sempre Cioè Ma parliamo di anime Di giochi Ma Cos'è sempre questa Questo essere così Arroganti Nel modo di dire le cose Perché non si può dire In maniera un po' più tranquilla Cioè Anche io magari Ogni tanto Dico le cose Con una certa fermezza Con convinzione Però Dipende anche come le dici Perché magari si può notare lo scherzo Per esempio Dario Quando Fa finta di offendere qualcuno Si nota Qui bollo Visto proprio incazzato Sembra quasi che chissà chi abbia detto Vabbè comunque Va bene così Vabbè